Ecco, grazie Giovanni, che bella quella cosa, mi dai la visione? Lui e Giuseppe ha 88 anni ed è il quartiere Santo Spirito di Bari, è il primo over 80 al quale l'Asla ha somministrato la prima dose del vaccino Pfizer anti-Covid in uno dei centri vaccinali attivati nel territorio metropolitano. Giuseppe, panettiere in pensione, era accompagnato dal figlio ed entrambi sono felici. Nel giro di poco tempo hanno fatto la prenotazione e quindi la vaccinazione è così tanto attesa. Ha fatto il vaccino? Certo, l'ha fatto. Bene, bene. Purtroppo non sente. Bene, bene. E il figlio? Sì. Ha fatto un test molecolare per il Covid, ha fatto un tampone per caso? Perfetto. Vuole venire com'è? Iniziamo a vaccinare. 50.000 le prenotazioni, un quinto delle quali a domicilio 200 il personale dell'Asla di Bari, impiegato di 55 centri vaccinali del territorio. Abbiamo ricevuto tantissime prenotazioni, abbiamo dato quasi 50.000 appuntamenti, quindi nelle prossime quattro settimane dobbiamo fare più presto possibile.